Musica Ragazzi oggi è il primo giorno di scuola, vi hanno spiegato come funzionerà? Sì, alcune classi entrano prima, alcune classi entrano dopo in modo che non si triano assembramenti e poi anche l'orario dell'uscita non è come l'anno scorso cioè c'è chi esce prima, 12 meno un quarto, una, non sono uguali E vi hanno spiegato se riuscirete a fare anche ricreazione in questi giorni? Sì, in parte ci hanno detto di con quelli di non fare assembramento che le macchine saranno disinfettate però non ci hanno dato indicazioni precise Quindi voi state aspettando di entrare per capirci meglio? Sì, diciamo di sì E come vi sembra ritornare a scuola dopo tutti questi mesi? Diciamo che è un po' traumatico perché è da marzo che non andiamo quindi sette mesi quindi è un po' traumatico, un pochino di, come dirà, ansia Visto che comunque ci sono ancora molti casi e quindi... Oggi è il primo giorno di scuola, voi come la state vivendo? Com'è questo ritorno? È un'emozione anche se sappiamo che è un po' diverso dagli altri ritorni però comunque siamo emozionate e speriamo che vada bene perché questa ritorno è l'estate Siamo d'accordo che sia cominciato Diciamo adesso la giusta data che hanno dato perché per i ragazzi alla fine stare fuori o dentro non cambia Diciamo che la scuola è un bene per loro Penso dopo tutto tanto tempo anche le aiuta un po' di più Invece di stare fuori a casa ad aspettare se aprono o non aprono Penso che dentro la scuola cominciare che è un bene per loro Ecco, e per te diciamo il primo giorno proprio in generale perché il primo giorno di liceo, il primo giorno di liceo in questa situazione Ecco, tu come la vivi? Arrivo come un nuovo inizio inizia però con questo problema del coronavirus Spero, speriamo bene Siamo all'istituto dei Nobili con un'alunna Ecco, com'è questo primo giorno di scuola? Allora, molto emozionante Effettivamente, siamo molto in ansia Anche se preferiamo stare molto vicini Visto che comunque ci dobbiamo ancora conoscere bene Però comunque ci accontentiamo Avremo cinque anni per conoscerci quindi Secondo te è giusto aver iniziato adesso oppure ci voleva più tempo? Sì, no, è giusto Io volevo pure iniziare prima Ok, perfetto